Massimo Fera, amministratore delegato della Fiat Torino Ausilium. Quanto è importante per voi venire a festeggiare la conquista di questo trofeo qui in uno dei vostri partner storici della BAM? Per noi è molto importante, ci sembra il giusto riconoscimento e il giusto ringraziamento per chi ha creduto in questo progetto ormai da anni, ci ha accompagnato e ci accompagna in questa avventura fin dalla 2, quindi dalla promozione storica perché era il ritorno di Torino e del Piemonte in Serie A dopo 25 anni e con noi ha vinto la Coppa Italia, altro traguardo storico non solo per la nostra società ma per tutto il basket piemontese. Si parla di crescita continua del basket italiano, di necessità di crescere e di avere investimenti. La Fiat Torino guarda anche ai possibili talenti che ci sono in provincia di Cuneo? La Fiat Torino guarda con attenzione ai talenti della provincia di Cuneo come alle realtà piemontesi. Il basket piemontese sta conseguendo dei risultati importanti, ha vinto la Coppa Italia con noi in A1, ha vinto la Coppa Italia in A2 con Tortona, ha vinto la Coppa Italia di Serie C con Omegna, è un basket vivo, è un basket che sta da grande soddisfazione ai tifosi piemontesi e noi ci auguriamo di poter essere la punta di questo iceberg che però ha una base molto larga e molto solida.